Musica Nel recente rapporto sull'andamento degli incidenti stradali in Abruzzo pubblicato da ACI ed Istat, la provincia di Teramo ha guadagnato un triste primato per l'anno 2022. Il Teramano, al secondo posto per il numero totale di sinistri, si trova in cima alla lista per il numero di morti e feriti a seguito di tali incidenti. Nel corso del 2022, Teramo ha registrato un totale di 784 incidenti stradali, posizionandosi al secondo posto dopo Pescara che ha segnato 804 incidenti. Tuttavia, ciò che rende questa statistica ancora più sconvolgente è il numero di vittime coinvolte. Teramo, infatti, ha visto 23 morti nel 2022, il più alto nella regione, seguito da Chieti con 14, L'Aquila con 13 e Pescara che ha segnato 9 vittime. Inoltre, 1097 sono le persone che hanno riportato ferite a seguito dei sinistri. I dati mostrano un aumento significativo rispetto all'anno precedente, con 15 morti e 1.088 feriti nel 2021. L'anno successivo, il 2022, potrebbe aver subito l'influenza delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19. A farlo notare è il presidente ACI di Teramo, Carmine Cellinese, mentre il 2023 ha visto un aumento significativo degli incidenti mortali. Questa triste realtà è stata sottolineata da una tragedia recente, con la perdita di un giovane di soli 27 anni a Giulianova. Le statistiche provinciali indicano un ritorno ai livelli di incidentalità stradale precedenti alla pandemia. Rispetto a quell'anno, scelto come riferimento per l'obiettivo 2030, ben 53 province italiane su 107 hanno registrato un aumento nel numero di morti sulle strade, tra cui appunto Teramo. Questi dati richiamano l'attenzione sulla necessità di intensificare gli sforzi per migliorare la sicurezza stradale.